space bentornati a tutti ragazzi e ragazzi sono le xeir max e siamo su un nuovo video dedicato alla nostra piccola saga sfide impossibili saluta salvo allora come stai salvo abbiamo visto di questo tuo grande rientro da youtube il tuo piccolo hai avuto il tuo piccolo diciamo momento di non so se mi devo andare da youtube forse rimango dici 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 eh sì allora sì è vero ho avuto questo momentino un po' sì me ne vado rimango però ho riflettuto durante mentre sto facendo la doccia ho detto scusa io sono andato su youtube è il mio sogno perché devo abbandonare e infatti diciamo che le maggiori pensate i maggiori cioè il primo luogo dove avvengono le più grandi idee vengono nel bagno precisamente nel bagno ma non si caga quando si sta sotto una doccia sì più il primo ma comunque allora oggi visto che lui aveva scelto la scorsa volta la balestra stavolta scelgo io e io ti proporrei intanto andiamo su partita pubblica ehm cosa vogliamo fare sempre ehm ehm cosa facciamo noi cerca di struggi si si dai facciamo anzi facciamo una uccisione confermata uccisione confermata ok va bene vedete la nostra classe sarà io ho un extrusioner quello lì con video laser perché boh non so come me lo sono fatto a trovare io utilizzo il reflex con la faccina sorridente come mirino ehm poi come pecc ci ho altri scheggi inflessibili e sciacallo di stitoli ah possiamo mettergli i pecc ah no togliamoli dai il meglio è più divertente va ah io disattivo la voce mettiamoci un c4 almeno però un c4 ce lo mettiamo o una granata ma sai che fortunatamente sono riuscito ad ammazzare qualcuno col tomahawk non ci credo neanch'io come mai nella vita oh raga ci sono scarsi se eravamo un fucile a questi potevamo fare qualcosa eh però il primo è forte cazzo eh 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 allora facciamo una cosa ognuno sceglie la propria la propria specializzazione io per esempio mi tengo le granate sensore il tomahawk tu sei sei più meglio con una cosa cioè la nostra sfida è diciamo che oggi dobbiamo riuscire più o meno i cinque famosi cinque uccisioni dai si va bene allora facciamo cinque uccisioni e siamo partiti dai quasi dai sei carico l'altra volta io ho fatto abbastanza pena dai l'altra volta io tu ero casato vediamo un po' questi episodi come sono secondo me la sfiga di oggi è che io riesco ad uccidere per non beccherò mai nella vita la medaglia io ho già di vedere questa pistola mi viene l'ansia vivo si è impossibile oh ma prima ho fatto qualche deep match e non è andata male eh ah si? adesso me la sono tirata tantissimo però bisogna molto pensare come muoversi capito? eh si devi vedere un po' adesso qui vado c'avevo anche la risuola invertita pensa di non so il perchè perchè? vabbè io vado piano piano che c'ho già un'ansia qua che non ti dico io sono già nello spawn nemico dico eh anch'io più o meno con una no Mark ho fatto una no no non è possibile ce l'avevo lì dentro l'angolo ho fatto due e l'ho ucciso col Tomahawk vale col Tomahawk gli ho fatto due kill eh io uno ma però col Tomahawk vale lo stesso me l'abbonate? nooo mi ha ammazzato con l'iteradione penso di cacca dopo mi prendo la mia testina no sono esploso tantissimo con una granata allora allora andiamo dai stiamo andando bene dai io sono già due kill e te ha una una col Tomahawk no no zero tu non hai fatto una kill come zero? ma no me l'avevo ucciso mi ricordo ah no può darsi che abbia fatto con l'assist ho fatto un'altra kill si è fatto l'assist si è fatto l'assist ok no no questo l'ho ucciso però ok questo l'ho ucciso si 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 yeah stanno già arrivando i like me li sento ogni volta che uccido qualcuno è per i like dai siamo fortissima Alex si 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 tu si io no io ve la devo cavare devo andare un po' a botta di culo come sempre c'è quattro mamma mia no 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 erano tutti dietro l'angolino ma uffa e' bello che l'avevo quasi uccisi uffa dai e' un altro ucciso quanto è fatto sento io ho 4 dai stami andando benissimo si dai ecco si stavo ricaricando e non me lo sono visto non mi sono fatto non mi sono fatto 5 kg e ho chiamato anche 1 ap eh grande grande eccole ho attenzione che è già dentro eh eh dai le regala 6 6 kg oddio ragazzi non sono ucciso eh ok io l'ho ucciso anche un altro ma tanto quanto attacco io obbligo sono a 4 oh ragazzi sta andando meglio eh vedi che scelgo io le sfide vanno bene vabbè te sei allenato io non mi sono manco allenato certo ma che dobbiamo fare e' perchè mi ritrovo fermi io praticamente uh 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 oh io sono a 7 kg eh io 5 io 5 tra poi usciamo il vizat tra poi usciamo il vizat c'è possibile io non so come sto facendo ci sto riscendendo in una maniera oddio manca una al vizat manca una al vizat dai mi piace per fargli fare il vizat ma manca mezzo punto al vizat manca mezzo punto al vizat io ho una caga pazzesca Alex una caga pazzesca eccolo eccolo io anch'io sto chiamando l'uav poi lancio il drone approvvigionamento in attesa e lancio gli approvvigionamenti ma era tipo un anno qui mi chiamavo e adesso io mi metto qua piccolo piccolo spero che nessuno mi becchi eh io uso il coltello attento ma cosa mi arriva? io uso il coltello cos'è questo? drone di scorta buono dai oh hai chiamato il drone di scorta eh si oh sono a 7 kill eh ragazzi me lo sto capendo stavano bene e lui è a 10 eh eh ma ma non mi prendo cioè io lo sto girando nudo con il coltello ma perchè? hai finito le munizioni io ho 5 munizioni e ora come faccio? eh dopo facciamo il coltello vabbè io non tanto sto sto prendendo tutte le piastrelle eh boh io sono morto mi sono fatto uccidere perchè poi come facevo? no io non mi sono fatto uccidere e scappo invece cerco di sopravvivere poi se mi ammazzano giustamente mi ammazzano al massimo facciamo una cosa per la prossima sfida ragazzi se oh ho sbloccato gregario una medaglietta diciamo se la prossima volta teniamo sciacallo essendo che abbiamo ma l'ora che non stavo giocando l'ho portellato che culo che culo però è buono che non giocano almeno io mi faccio le uccisioni e i punti no? eh già cosa buona è oh manca tipo 3 o 4 hanno altro visa a te ah io adesso però per adesso non ho più trovato nessuno mi so che mi piace un casino si si io mi sto scassando credevo che facciamo bene invece adesso non sto cavicchiando però non ho ancora trovato nessuno cioè vabbè però il drone ti sta dando un supporto della madonna no ma nooo era sopra le scale ma ammazzato ho premuto troppo non ho premuto per niente di billetto oddio non sono morto mi hanno salvato il culo mi hanno salvato oddio non ci sono altro oh manca un manca un mezzo punto un altro visa vai vai salvo mamma mia sono gasatissimo eh io sto pregando che arrivi uno perchè non ho ancora trovato uno cioè hanno trovato uno abbiamo fatto però oddio regalo sono tanti nostri ci sono ah 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 eccolo lì nooo qua l'avevo colpito ho fatto assist però io devo parlare io devo riflettere come giocare perchè manca mezza dal visa e te lo voglio chiamare lo voglio chiamare eccoli 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 forse riesco a beccarmi eh no ce l'avevo dietro di me ce l'avevo dietro di me eh questo non gioca questo non gioca vai visa ragazzi grandissimo mi serviva proprio eh comunque ho preso un'arma da terra per sbaglio anzi mi prendo il cecchino ah ma come dai non è giusto allora hai chiesto va scherzo 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 eh bravo bravo così eccolo che arriva eccolo che arriva sopra un coltello si si è ucciso ucciso una grande doppia incisione ha fatto anche grande no cacchio oh 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 io ho fatto te lo dico eh ho fatto tre kill col cecchino perchè eh non potevo fare nulla eh vabbè pazienza dai te le scaviamo te le scaviamo te le scaviamo dalla paga aiuto miseria 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 no minchia se non mi beccavano dalla tu ci devo quell'altro 1 un solo schifoso il prossimo città 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 il il vabbè la parte il 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 fatto di decisione città il il porto porto il gioco prese al 12 ora è stata la sfida perciò le stupine inizio azzurro tra i quali i nostri cittadini poi esso gli assai sono pronti cittadini conferma ricorda tutti con te alex si 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 ma stavolta sta andando abbastanza bene ok se c'è stile ammazzo no ma non beccato da problema dei colleghi delle cittadini ti deve essere proprio davanti se no non ce la fai meno male che c'è quello là che non gioca che mi ha fatto chiamare due viva ecco sapevo che si lo doveva in una maniera d'uccisione negata allora oh manca una torta, due dal bisat tipo, mezzo punto dal bisat tu ci credi? si si ma io ci credo io ci credo che adesso mi trovo uno oh manca mezzo dal bisat manca mezzo dal bisat, tu ho una caga di nuovo pazzesca speriamo che non finisce la partita nooo mi schiavo finito le munizioni ma perchè soltanto 5 schifosi proiettivi vi sono 5 oh no no paura paura eh che io c'ho paura io chiero mi butto mi butto mi butto io lo volevo fregare e mi ho fregato lui ahiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai eh che culo di merda ho già amato il bisat grande ecco gli adesso li vedo tutti e li ammazzo tutti c'è con la pistola sono a venti di figlia tra poco, manca uno e sono a venti di figlia uno, ecco uno sta facendo decisione confermata e me la hanno ammesso oh mio che sto creando Alex, questo episodio dobbiamo caricarlo per forza ah per forza che lo carichiamo ah infatti, 21-1, cioè con la pistola di merda qui ce n'è uno fermo molto probabilmente vai questi due sono i miei, venite venite cos'è c'è la quindici ho fatto una doppia, ho fatto una doppia di pistola e sono a venti di figlia, è instancabile per la prima volta sono instancabile instancabile, lui è instancabile ragazzi, no te l'ho ammazzato bruttissimo ti provo a vendicare no per niente per niente io voglio il premio nobel, voglio il premio nobel premio cod però peccato che gli episodi dovranno finire eh, e se non finiranno mai, e l'ho ucciso io ragazzi, ti ho vendicato prendere le piastine e finisce la partita eh, non potrei assolutamente ammazzare eccolo qua, uccisione confermata vabbè, adesso sto andando un po' nella mischia così tanto per, dai, divertiamoci sì sì, no ma questo cecchino che sta sderato è un po' che è mio dai eh, ben fatto sei tu l'ultimo, sì crede solo di sì 4-4 guardatela ragazzi anche in finale lui, mamma mia però che bella la tua, la tua skin dell'alma bellissima comunque ragazzi ah, spalla tu la fine la parte finale sì, direi che per oggi è andata bene io con 17 col salvo 24 mica uno ha fatto 33 però teniamo sempre conto che gli altri hanno le armi non soltanto delle pistoline però oggi finalmente ci siamo fatti valere entrambi boh, io ho sbloccato canna lunga adesso mi ha sbloccato canna lunga ma non poteva farlo prima porca di quella miseria vabbè allora direi che per oggi è tutto ragazzi eh salvo, fai la tua bella chiusura e vabbè ragazzi il video è finito come sempre mettete un like commento su sito ancora iscrivetevi al mio canale quello di alexermax e lasciate tanti like sia per me sia per lui commentate condividete il video iscrivetevi al nostro canale come ha detto anche salvo ah, diteci anche altre armi che potrebbero farvi piacere vero, vero magari qualche combinazione o magari mettendoci ancora in più in difficoltà maledetti so che siete dei maledetti e lo farete tantissimo ma comunque e vabbè ragazzi vi saluto da alexermax e da salvo bella shagari shagari alla prossima